ragazzi ragazzi so che siete qua vi ho visto dalla telecamera forza uscite ragazzi forza dove siete si è casa mia grazie per averci offerto la casa per il tuo vuoi un internet per tornare più giovane ti ricordi di queste sono le chiavi che mi hai invitato per fare le prove sì ma non ti lo date per il rito però adesso tieni le tanto non mi serviranno più dopo oggi ragazzi voi non dovete più entrare a casa mia io ho messo anche la videocamera con l'allarme la prossima settimana mi trasferisco però tu non preoccuparti noi facciamo questo rituale e ce ne andiamo david david ah c'è anche david ah si esatto benissimo allora voi fate il rituale e poi chiudete la porta te oggi sei arrivata proprio nel momento giusto quindi dovrai fare la protettrice insieme a david per un rituale per me e samuel ah per te samuel si va bene cosa dovete fare allora questo rituale dovremmo farlo in coppia perché così rimarremo giovani per sempre quindi sediamoci e david passaci gli aghi perché dovremmo bucarci il dito dovrà uscire il sangue unirlo e ci dovremmo baciare ah ma adesso ah ma quindi subito proprio no ragazzi allora facciamo così samuel perché vuoi baciare maia sei sicuro di volerla baciare è per il rituale ovvio che ne dite se aggiungiamo più persone magari il rituale diventa ancora il doppio più forte che ne dite va bene ma devi fare veloce ok vado a chiamare qualcun altro allora veloce si veloce ok rispondi l'aria per ore guardi ok ilaria ilaria emergenza allora devi venire a casa mia nuova perché c'è samuel che sta per baciare maia per un rituale strano per favore vieni perché sai che a me samuel piace e non voglio che succeda bisogna distruggere tutto quello che c'è tra loro ok ok forza vai veloce ti aspetto sta arrivando ok quindi dopo il bacio cosa succederà voi vi fidanzerete o diventerete giovani per sempre i biscotti a decidere ah perché c'è anche i biscotti senti la anche i biscotti ciao ragazzi ciao ilaria sempre con questi rituali intanto non funzionano samu e maia ti devo rubare samu un secondo si ma che la stia è una cosa veloce molto veloce ma chissà di cosa dovranno parlare samu hai capito? perché sennò poi non funzionerà ehm si ho capito eh si tranquilla funzionerà tutto quanto ok basta che ci chiedi cercai si 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 ma la metti che aspetta lo sai che ti piace a charlotte vero? ma cosa stai dicendo? fidati me l'ha detto prima mi ha chiamato apposta l'ultima volta è pure scappata da me ma non devi contare l'ultima volta fidati maia le ha pure detto che gli piace a leonardo prima cosa non ti devi fidare mai seconda cosa suoi rituali non funzionano fidati cosa stai dicendo? ne so qualcosa si stiamo giusto io vieni di sotto oh finalmente adesso faccio gli rituali dai ripetiti cosa? ma io sono fidanzato vabbè tanto non funziona ti ammai a stare zitta vabbè spazi allora tieni qui dovete fare anche voi il rituale e prendere gli aghi veloce Ilaria ma io ho una fidanzata tanto una cavolata fidati vabbè speriamo se si ragazzi ora vedrete che cavolata è no ragazzi così non ci arrivo visto non è successo nulla certo vi mancano i biscotti ho preso ho preso ho preso ho preso lei dice cosa ci ha detto? dovete sposarvi che cosa vi avevo detto? che ci fai? se no se no poi non funziona ragazzi avete rovinato tutto lo sapevo Ilaria io mi dovevo sposare con Zaoi non te se no ma non hai fatto male te 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 ti te che ti te 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 tu le le Perché non volevi che io baciasse Noia, scusa? Perché secondo me non è la persona adatta a te Cioè, proprio non vi vedo bene insieme E sentiamo, chi sarebbe la persona adatta a me? Boh, non so, ho qualcun altro che non sia male A me, che lo ti piaccia Ok, facciamo che ti trovo carino, ok? Non è che proprio ti trovo carino Quindi suppongo che ora bisogna andare a mangiare il sushi Cioè, facciamo che, va bene, vengo Ma perché mi piace il sushi, ok? Sì, sì, va bene Ma vuoi lasciare tutti ora, così andiamo subito? Andiamo adesso, tanto Va bene, andiamo allora Ragazzi, noi andiamo a mangiare il sushi Ciao E andiamo a mangiare il sushi? Ma te lo stavi con Leonardo? Non hai innamorato di lui? No, aspetta Allora, io non ero innamorata di Leonardo, ok? C'è qualche fraintendimento Io e Leo adesso... No, non funziona più Ma come? Non è vero! Ma è una storia passata, Mario Ma stai scherzando? Ma non è possibile Ogni volta ti ti inamori sempre di tutti Ma... Charlotte, senti Io te lo dico da amica Non puoi metterti con Samuel Che lui nemmeno lo conosci bene Sì, infatti hai ragione Non vi conoscete Piccioncino, vieni qua, vai Che adesso devi capire se conosci meglio me o Charlotte Con questa Vieni Vai Sam, ora ti inizio di vedere qua Ragazzi, scambiatevi Sam, puoi alzare? Va bene Non vorrei sbagliare ma... Ilaria È sicuramente Ilaria Questa? Maya Chi scelta Maya? Questa? Certo Ho indovinato, vero? Ah, sì Hai indovinato Che ti dicevo, Maya? Dei! Spruzza! 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 Che ne ho Aiuto Ma cosa è che faccia? Spruzza! Spruzza! Che male! Ai! Ai! Spruzziamo Prendi Samu, forza Sì, Samu Sal Prendi, Samu Alzati, forza Dai, la riapruzziamolo nell'altra Forza, forza Sì, allora prendilo Vai Sono in su Forza Maia Maia Svegliati Che c'è? Se vuoi vado a spruzzare allora il peperoncino No, non ti preoccupare Tanto prima o poi mi vendicherò Ok Oh mio Dio Ok Togli lì Questa Samu Samu Ehi Samu Ok Svegliati 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 Grazie a tutti.